Musica Basta discriminazioni, non consegniamo i nostri corpi allo Stato. L'ex vicepresidente della provincia, Davide Rossi, mette in guardia sui vaccini. Non sono farmaci sicuri, mancano ancora degli studi fondamentali. Lunghe file e troppe richieste per i tamponi. La coordinatrice delle parafarmacie continua la battaglia. Ci hanno escluso provocando un danno a noi e a tutti i cittadini sprovvisti di Green Pass. La strage di Corinaldo, il comune non sarà parte civile. Il gruppe di Ancona ha rigettato la richiesta. Prossima udienza, il 16 dicembre. Furbetto del cartellino, timbra e va a fare il giardiniere. Denunciato a Senigallia, un dipendente dell'Asur. Schiamazzi e atti vandalici. Il sindaco di Urbino firma una nuova ordinanza. Nel fine settimana la chiusura dei locali è posticipata all'1.30. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con le dichiarazioni rilasciate dall'ex vicepresidente della provincia di Pesero Urbino, Davide Rossi, che chiede rispetto per i non vaccinati. Quello che sta accadendo, ha detto, è un precedente pericoloso e i vaccini non sono ancora sicuri. Sentite. Comprendiamo i cittadini che si sono vaccinati e li rispettiamo. Chiediamo anche rispetto per la nostra scelta, di non vaccinarsi e di non sottoporsi al Green Pass. È un no alle discriminazioni quello che arriva da Davide Rossi, ex vicepresidente della provincia di Pesero Urbino e già assessore del comune di Fano, che torna a rilasciare un'intervista a Fano TV per lanciare un appello alla popolazione e per far comprendere le ragioni della loro contrarietà. Infatti Rossi, insieme a un gruppo di persone della vallata del Metauro, tra cui medici, docenti, avvocati e imprenditori, continua a rifiutare le imposizioni del governo, tra le quali il certificato verde, che provoca una serie difficoltà, detto sino al punto di rischiare di rimanere senza stipendio. Si tratta di costituire un precedente pericoloso. Cioè diamo allo Stato la possibilità di disporre dei nostri corpi. È la biopolitica, si chiama, ed è una cosa estremamente rischiosa per il futuro. Questi farmaci sono ancora sperimentali, come viene attestato dal sito dell'AIFA, dove si dice che la sperimentazione per Pfizer terminerà a dicembre 2023 e per Moderna terminerà a dicembre 2022. Quindi fino a quel momento si naviga nell'ignoto. Ci sono anche altri accertamenti che non sono stati eseguiti? Sì, nei documenti illustrativi di questi farmaci vi è detto esplicitamente e ufficialmente che Pfizer non ha condotto studi né sul potenziale cancerogeno né sulla genotossicità di questi farmaci. La genotossicità è la capacità di una sostanza di danneggiare le cellule del nostro DNA. Quindi Pfizer non ha condotto studi in merito e questo è normale perché ha dovuto immettere in commercio il farmaco in 448. Moderna ha fatto studi sulla genotossicità ma non sul potenziale cancerogeno. Qual è il messaggio che volete lanciare ai cittadini? Il messaggio è che noi non ci fidiamo di questo Stato fino al punto di consegnarli i nostri corpi. Questo è lo stesso Stato di cui prima del Covid-19 pochi cittadini si fidavano. E quindi è lo stesso Stato che ha chiuso 11 ospedali nella regione Marche negli ultimi anni. Attenzione perché il Green Pass oggi magari lo condividete perché è per imporre l'obbligo vaccinale ma è uno strumento che potrà essere utilizzato dallo Stato in futuro per imporre qualsiasi altro obbligo. Ad esempio non ritardate a pagare le tasse o una bolletta lo Stato attraverso il Green Pass vi limita le libertà personali. Questo è già realtà in Cina. È una realtà che non vorremmo vedere anche in Italia. E l'obbligo del Green Pass costringe molte persone ad eseguire spesso il tampone in farmacia. Il servizio però viene fornito soltanto in pochi giorni e in orari determinati. Un disagio notevole che ha portato la coordinatrice delle parafarmacie delle Marche a proseguire la sua battaglia. Ci hanno escluso, ha detto la Clini, provocando un danno doppio a noi e ai cittadini. Qui è pieno di gente anche da noi che viene a chiederci di poter fare il tampone perché le farmacie non riescono a soddisfare tutte le richieste. Addirittura c'è gente che va nei paesi limitrofi a farlo e cerca un posto disperatamente. È in atto un'emergenza legata ai tamponi perché la richiesta supera di gran lunga l'offerta fornita dalle farmacie. A denunciarlo è Daniela Clini, coordinatrice delle parafarmacie delle Marche, che da tempo porta avanti una battaglia per far sì che anche questa categoria possa dare il proprio contributo. Ha maggior ragione in quest'ultimo periodo in cui molte persone sprovviste di Green Pass si vedono costrette ad eseguire il test ogni due giorni. Nel mese di aprile la Regione Marche aveva concesso alle parafarmacie di effettuare i tamponi. Questo soprattutto nasce dalla necessità di avere una tracciabilità maggiore possibile e anche una notevole capillarità. Poi invece a distanza di qualche giorno Federfarma, che sarebbe l'associazione dei farmacisti titolari, invia alla Regione Marche una diffida dove appunto dice che solo i farmacisti delle farmacie possono effettuare i tamponi e solo gli ambienti delle farmacie sono idonei a questo servizio. A quel punto, prosegue Daniela, la Regione con una delibera tolto alle parafarmacie e la possibilità di fare i tamponi, una decisione che ha comportato anche un danno economico. Avevamo già fatto degli investimenti anche perché dovevamo seguire delle regole precise che la Regione stessa ci aveva dato, quindi addirittura alcuni di noi erano arrivati anche a prendere dei gazebi per poter fare gli esami fuori e quant'altro. Secondo noi, continua la coordinatrice, le ragioni che hanno portato a tutto ciò sono infondate, per questo siamo andati avanti e siamo arrivati fino al Consiglio di Stato il quale è accolto alla nostra istanza. Ora si attende di nuovo la risposta del Tar delle Marche, che a cascata influirà sulle scelte di tutte le regioni d'Italia e dunque, ha precisato Daniele, una lotta a livello nazionale. Intanto, ecco la risposta del Consiglio di Stato. In modo abbastanza palese dice ma signori, questi sono farmacisti e oltretutto i locali devono essere seguono le stesse regole delle farmacie, quindi perché non possono fare questa cosa? E addirittura indica una strada, che è la strada della Corte di Giustizia Europea, cioè dice arrivate alla Corte di Giustizia Europea e noi questo lo vogliamo fare. Al di là di tutti i cavilli e di tutti i vari azzecca garbugli che popolano la nostra politica, tra l'altro, in questo momento c'è una difficoltà enorme per i cittadini che devono fare i tamponi perché uno, non tutte le farmacie li fanno, alcuni li fanno ad orari ridotti anche perché, logicamente, hanno altro da fare. Quindi tutto questo si trasforma in un caos totale e in un disservizio assoluto nei confronti del cittadino. Sarebbe stato molto utile, anche nell'interesse pubblico e soprattutto nell'interesse pubblico che le parafarmacie potessero partecipare a questo progetto. Noi siamo intenzionati ad andare avanti, vogliamo far valere le nostre ragioni e quindi lottiamo per noi ma soprattutto anche per tutta la cittadinanza. E sono 82 positivi registrati nelle Marche nell'ultima giornata. La provincia più colpita è quella di Macerata con 42 contagi. In terapia intensiva ci sono due ricoveri in meno rispetto a ieri mentre rimane invariato il totale dei degenti in semi-intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi legati al virus. E tre persone sono rimaste levemente ferite in un incidente che si è verificato oggi intorno alle 12.30 a Trebbiantico nella comune di Pesaro. Coinvolte nello scontro due auto. Una che stava procedendo in direzione Novilara e l'altra che stava uscendo dalla RSA di Galantara. Sul posto il 118 e la polizia locale. Andiamo a Senigallia dove la Guardia di Finanza ha scoperto un dipendente dell'Asur che dopo aver timbrato il cartellino andava a lavorare come giardiniere anche usando le auto di servizio. Filippo Pucci. Si vantava coi colleghi di essere un furbetto del cartellino cioè uno di quei pochi dipendenti pubblici che intraprendono regolarmente il turno di lavoro per poi invece dedicarsi ad interessi privati. È stato scoperto dalle fiamme gialle il 65enne in servizio con mansioni esecutive in una struttura dell'Asur di Senigallia. Le indagini sono partite da una chiamata arrivata al 117 nella quale venivano segnalati alcuni lavori in nero svolti da un giardiniere. I militari così hanno iniziato a pedinarlo. Dal momento dell'uscita della propria abitazione fino al termine del turno. La curata osservazione ha permesso di svelare che il pubblico dipendente in molte occasioni dopo aver timbrato il cartellino usciva subito per recarsi in luoghi che non avevano nulla a che fare con le proprie mansioni. Il 65enne si spostava spesso in bici e quindi per il controllo e il pedinamento anche i finanzieri hanno dovuto utilizzare biciclette, ciclomotori e autovetture avvalendosi pure di tecnologie informatiche per il tracciamento degli spostamenti. Durante i mesi di investigazione è stato rilevato che l'uomo quando doveva effettuare i lavori di giardinaggio utilizzava anche un'auto dell'Asur per ritornare a casa dove caricava gli strumenti indispensabili per la seconda attività come ad esempio tagliaerba, rastrelli, vanghe e sacche di concime e poi raggiungeva o i terreni di sua proprietà o dei giardini dei privati. Qui oltre alla semina di piantine effettuava la potatura degli alberi e curava gli spazi verdi a lui affidati. In altre occasioni invece usava lo stesso veicolo di servizio per effettuare operazioni di carico e scarico di piante e sementi in alcuni vivai o dai rivenditori. In altre giornate poi l'indagato sempre in orario di lavoro e utilizzando la bicicletta effettuava visite di cortesia ai propri conoscenti nel centro storico di Senigallia oppure andava a fare la spesa nei negozi di alimentari e di abbigliamento o ancora transitava per il mercato settimanale. Poi, verso il termine dell'orario di servizio il dipendente infedele rientrava in ufficio per timbrare l'uscita. Questi comportamenti sono stati registrati in un arco temporale di circa sei mesi. L'uomo è stato denunciato dalla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di truffa ai danni dello Stato punito con la reclusione fino a cinque anni perpeculato ai danni della pubblica amministrazione punito con la reclusione fino a dieci anni e sei mesi nonché il reato di falsa attestazione della presenza in servizio per la quale si rischia il carcere fino a cinque anni. E oggi si è tenuta l'udienza preliminare nel procedimento bis per la strage della lanterna azzurra e il gruppo Francesca De Palma ha respinto la richiesta del comune di Corinaldo di costituirsi parte civile quindi in caso di condanna il comune potrebbe essere chiamato a risarcire in solido con gli imputati che sono 19 e tra i chiamati in causa ci sono anche i componenti della commissione di vigilanza tra cui il sindaco presente questa mattina che nel 2017 diede nulla osta per pubblici spettacoli nell'ex capannone agricolo la prossima udienza si terrà il 16 dicembre quando verranno formalizzate le richieste diritti alternativi come i patteggiamenti e i giudizi abbreviati il sindaco di Urbino Maurizio Gambini questa mattina ha firmato un'altra ordinanza che modifica gli orari di chiusura dei locali durante i fine settimana fino al 15 ottobre rimane il limite orario alle 24 per le serate del giovedì mentre il venerdì e il sabato la chiusura è posticipata a lunedì 30 la misura si legge in una nota si è resa necessaria per motivi di sicurezza e ordine pubblico alla luce dei recenti episodi il sindaco ha spiegato le motivazioni della decisione dopo gli incontri avuti con le associazioni di categoria gli esercenti alcuni rappresentanti di studenti prendo atto della generale disponibilità alla collaborazione questo ha concluso Gambini è un fatto estremamente positivo perché c'è stata una presa di coscienza da parte dei soggetti coinvolti rispetto alla situazione critica che si verifica in città durante le serate della Movida e mancano pochi giorni alle elezioni comunali che si terranno il 3 e 4 ottobre vi ricordiamo la domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 a Fossombrone il candidato sindaco Massimo Berloni ha concluso martedì sera il tour di presentazione nei quartieri la città ha dichiarato l'imprenditore ha bisogno di unità di intenti e non di divisioni sfida 4 nel comune di Fossombrone per la carica sindaco della città della media Valmetauro due le donne e due gli uomini Elisa Cipriani Gloria May Fabio Londè e Massimo Berloni in queste settimane l'imprenditore della moda si è presentato nei quartieri e nelle frazioni in vista delle elezioni comunali di domenica e lunedì ottima la risposta ricevuta anche a San Lazzaro tanti cittadini intervenuti per ascoltare le proposte e dialogare con lui e con tutta la squadra i 12 candidati alla carica di consigliere comunale abbiamo messo insieme persone con competenze in svariati campi con esperienza e impegnate nell'associazionismo ha dichiarato sociale e giovani sono due delle priorità è necessario lavorare per una città inclusiva ha proseguito Berloni dove nessuno deve rimanere indietro va riacceso il motore economico di Fossombrone e serve curare le immagini della città con un'adeguata promozione le numerose frazioni e i quartieri possono tornare a diventare luogo di vita e di lavoro se fornite dei servizi necessari che vanno garantiti luoghi ha detto il candidato troppo spesso dimenticati dalle amministrazioni comunali i residenti invece hanno esposto diverse problematiche dalla viabilità alla pericolosità di alcune zone dalla mancanza di spazi verdi attrezzati a quella dei servizi essenziali nei pressi delle marmitte e dei giganti durante gli incontri si è parlato anche di sanità c'è chi vi fa promesse da tanti anni ha aggiunto Berloni e lo sta facendo anche durante la campagna elettorale vi promettono di tutto per qualche voto per noi la dignità non ha prezzo diverso e doveroso impegnarsi per ottenere il massimo di servizi noi se saremo chiamati ad amministrare incontreremo periodicamente la cittadinanza il saper ascoltare l'umiltà a concluso sono due caratteristiche che ci contraddistinguono a sostenere la lista sono i partiti di PD Socialisti Forza Italia e Lega è stato inaugurato si legge in una nota un nuovo modo di fare politica basato sul convincimento che soprattutto a livello locale viene prima l'interesse collettivo piuttosto che le appartenenze politiche il 3-4 ottobre si vota Forza Morone ho deciso di candidarmi a sindaco e per poterlo fare ho scelto la miglior squadra della quale sono profondamente orgoglioso sono persone che al di là della loro appartenenza politica che vanno dalla sinistra alla destra moderata sono convinto che con loro posso fare e posso ottenere quello che ho perfettamente in testa cambiare Forza Morone cambiarle in meglio e dare una Forza Morone ai nostri figli più degna del loro valore e dare a Forza Morone Forza Morone con la nostra esperienza quello che si merita cercando di creare una comunità ancora più forte ancora più dignitosa che torni ad essere il punto centrale della vallata questo è il motivo per cui mi candido oltre all'amore sviscerato per questo posto in cui sono nato o meglio cresciuto e vissuto e negli stessi giorni si torna alle urne anche nel comune di Colli al Metauro tra i candidati c'è Candio Curina con la lista Energia in Comune il prossimo servizio è stato curato da Letizia Marchionni si chiama Energia in Comune ed è la lista a sostegno di Candio Curina candidato sindaco di Colli al Metauro per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 70 anni sposato papà di due figlie geologo ed ex dirigente scolastico all'istituto comprensivo di Monte Felcino Curina porta nella sua candidatura un bagaglio pieno di esperienza da condividere con i numerosi candidati giovani della lista da lui guidata il programma presentato da Energia in Comune propone una serie di punti per la valorizzazione e lo sviluppo di Colli al Metauro che vanno dall'urbanistica alle politiche giovanili all'ambiente e all'efficienza della macchina amministrativa altro punto importante del nostro programma è quello della scuola oltre che io sono molto vicino a questo problema sicuramente l'ultimazione degli edifici ancora incompleti e eventualmente l'adeguamento di quelli che non sono a norma dal punto di vista sismico e poi dal punto di vista diciamo ordinamentale della scuola noi puntiamo molto al rafforzamento della scuola di base a tempo pieno quindi la scuola primaria a tempo pieno poi la realizzazione questa è una novità per questo territorio importante di una sezione primavera ed un potenziamento poi degli asili nido poi c'è un altro problema grave che è quello della viabilità di calcinelli soprattutto e qui le cose sono molto complicate perché c'è un problema di affollamento di mezzi nelle ore soprattutto di uscita dalle fabbriche e anche di mezzi pesanti quindi valutare e diciamo riconsiderare magari in modo operativo perché già il progetto risale a diversi anni fa un'uscita alla zona industriale Laghi 1 e magari come è stata proposta snella come è stata proposta recentemente con l'uscita venendo da Fano e l'ingresso andando verso Fano solo quindi corsie parziali ma che però sicuramente andrebbero a leggerire il traffico pesante di calcinelli cultura e turismo sono altri due snodi centrali del programma con gli almetaura spiegato Curina non deve essere più soltanto la meta di una gita fuori porta ma può e deve diventare una destinazione turistica a tutti gli effetti importante poi l'attenzione alle attività economiche questo periodo soprattutto per i piccoli negozi ha continuato è stato di forte difficoltà vogliamo valutare le richieste dei negozianti e intervenire sia con alleggerimenti fiscali sia con manifestazioni che portino turisti nel territorio tra gli obiettivi anche il fornire nuovi servizi per i borghi storici e la riqualificazione delle aree ormai degradate per quello che riguarda invece la ciclovia noi abbiamo sempre avuto dall'inizio la nostra contrarietà alla riattivazione della ferrovia che sia essa commerciale che sia turistica perché riteniamo che i costi di realizzazione di questa non giustifichino l'intervento e parallelamente penalizza quella che è una struttura importante sempre dal punto di vista ambientale che potrebbe essere la ciclovia a completamento di questo discorso questo è chiaro che non è nell'immediato ma è un discorso che va gettato alle basi e sviluppato è quello di creare da questa fascia di badi diciamo di valle diciamo di fondo valle principale delle ramificazioni a pettine che vadano verso i centri storici verso le aree panoramiche bellissime che noi abbiamo nelle colline sia in un versante che nell'altro non sta a me perché ormai è conosciuto la bellezza dei borghi di Bontemaggiore Saltara Serrungarina Barni Pozzuolo cioè sono borghi stupendi che vanno valorizzati e passiamo alle vostre segnalazioni partiamo da Senigallia dove un nostro telespettatore denuncia lo stato di degrado del fosso della giustizia a Scapezzano la strada sta franando ci ha scritto la regione avrebbe dato la competenza al consorzio di bonifica ma non possono farlo loro ha proseguito spetterebbe al comune di Senigallia ma anche loro non ne vogliono sapere da Fano invece dal parco del quartiere Poderino ci hanno inviato questa fotografia per segnalare un'altalena rotta cambiamo argomento dopo la pubblicazione del libro di Sergio Schiaroli intitolato l'ultima lettera sabato 2 ottobre alle ore 16 nel parco Domenico Ricci a Cucurano di Fano si terrà un incontro con l'autore la tematica è quella dell'Alzheimer e delle malattie oncologiche interverranno anche il sindaco di Fano i presidenti della BCC e della fondazione Carifano le associazioni Adamo e Aima con la partecipazione del coro Fano Gospel Choir Modera Elvio Grilli ed ora apriamo l'album di Fano TV perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a ben quattro coppie partiamo da Egisto e Gina per i loro 60 anni di matrimonio Gina Marchionni e Egisto Salvi nozze di diamante per questa coppia di Sant'Orso di Fano e passiamo invece agli auguri per Adriano Pagnetti e Anna Roberti loro sono residenti a Fano e festeggiano 60 anni di matrimonio e hanno festeggiato sempre 60 anni di matrimonio oggi anche Anna Maria Paolucci e Martino Del Vecchio di Fenile di Fano la quarta coppia di questa sera Dina Righi e Adriano Zunga loro invece sono di Bellocchi di Fano 60 anni di matrimonio auguri a tutte queste coppie e adesso trasmetteremo tra poco le previsioni del tempo e poi la presentazione del candidato a sindaco di Fossombrone Fabio Londè grazie per averci seguito l'informazione torna domani mattina alle 7 con il commento alla stampa buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti